Ciao a tutti ragazzi da TFG on Demand Oggi siamo sull'altra mod di GTI Guardate che roba è Allora intanto mi spieghi un attimo una cosa Com'è fisicamente possibile tutto ciò? Che c'ho una bicicletta e la camera a battaglia Ma tu ba... Ma è cazzo la quale c'ho anche questo Guarda che roba è No ma già nel senso posso sparare a raffica Di certo non si può sparare a raffica Poi cominciamo dalle pistole ragazzi Andiamo alla pistola del combattimento Questa è già meglio Nel senso spara bombe Spara dardi esplosivi E potete sparare a raffica Adesso adesso che arriva la polizia A prendere un po' il macello Oddio Guarda la polizia Vediamo se riescono ad avvicinarsi Tu hai messo anche la mod Quella che la polizia è senza armi La mod si La polizia è senza armi ragazzi Quindi ha solo il mancanellino Che roba ragazzi Quindi divenerti vicinissimo per farti del mare Questa però è un po' noglione E' una po' sta pistola Aspetta Nell'eventualità siamo anche invulnerabili Pistola da come ho attività mi ha già visto La pistola calibro 50 Che è uguale all'altra Il problema è che ha una penetrazione Allucinante ragazzi Ragazzi con una calibro 50 Ovviamente prendete l'inferito E se E mi dai in te Uo Uccidere più di uno Hai messo in fila Guarda Spoon Ecco viste Mi ho ucciso i due Bravo Guarda se mettiamo un po' Mettetemi in fila Bravi Oddio Oddio Guarda che lento Andiamo a fare visita con l'olivo Io non scenderei Ma non voglio scendere Guarda che lento Guardalo No no ma vado davanti intanto Sì arrivo subito Bravo 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 Sei uscito Sei uscito Aspetta dai Mettetemi in fila Mettetemi in fila Niente Aspetta 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 Spoon Yeah Triple kill One shot One triple Oddio Stamod Guarda Cos'è Ma perché volano Cambiamo arma Ne abbiamo una pistoletta Che pistoletta è Ovviamente La pistoletta normale È una pistoletta normale Questa non è moddata Quindi andiamo via E cambiamo arma Nella pistola pesante Un po' questa Una pistola gravitazionale Ragazzi Guardate guardate Sfrappalla lo schermo Ma non rinforza Oddio guarda Quell'elicottero Oddio L'ha imbizzarrito Oddio Oddio Ce l'ha fatto Ecco No povero Vintage Su vai giù E qui sono rimaste le corde Boh non ti preoccupare Mi faccio fare un po' di gira a volta Con l'elicottero Lì ragazzi La pistola gravitazionale Prende tutto quello che c'è E lo sposta Abbiamo la pistola vintage La pistola vintage fa cagare Invece guardate che roba Guardate che roba Ma questo palloncino E se qua è un palloncino Che fa così Guarda chi era Allora Adesso si attacca un po' All'elicottero Guarda che roba Aspettiamo un attimo Oh va via Sposta un po' di cartone Ho visto un poliziotto che è passato Ma abbiamo una bravissima mia St'elicottero Ti prego Ti prego Ecco Facciamoli scoraggiare un po' Anche le macchine Oddio Attento 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 E' ancora lì che sta girando la prima E' che comincia a partire le macchine Ehi tu Tu, tu, tu per terra E' cambiarlo Mi fa troppo divertire, andiamo avanti Questo spara bombole di gas O per la palla Bombole di gas, in realtà che sui cosi esplodono Vedi? Attento Mantieni il controllo Palla di fuoco, perfetto Oddio, mi dispiace E' questa, è la pistola Che spara, le scorreggie a raffica La pistola spara, scorreggia a raffica Esatto Questa, ragazzi Questa non è per niente normale E' un mitragliatore, spara bombe A raffica, guarda che roba Sto fermo e giro in tondo Guarda, guarda Non si capisce neanche cosa sta succedendo Ragazzi, però io sto ammazzando un sacco di genti Oddio Eccola, no, l'ho vista Cos'è sta roba? Eccola, questo mi piace attirare le cose a te Attira le cose a me Ma anche le genti? Le genti Eh sì, è vero Guarda, attira le... Attira tutto a te Aia Sì, ma mi uccide Così sono le invincibilità Ma è divertente Guarda cosa c'è là in fondo Lo vedi? Aspetta, ascolta Fuori dalle palle un attimo Ecco Oddio Oddio, ci arriva Oddio, l'Atomic Bleeck L'Atomic Bleeck Basta Tiff Che figata, ragazzi Devo prenderlo? Sì, lo prendo E allora lo prendiamo, ragazzi E lo trasciniamo sulla main store of the rooftop Attento Che figo Vediamo sta macchina, ragazzi Se vogliamo tirarla verso di noi Eccola, eccola, eccola Oddio Oddio Siccome non troviamo l'aereo Ci divertiamo Con l'Atomic Blimp Passiamo un'altra arma Allora, no Questa Vediamo questo Vediamo il Thompson Oddio Oddio, ma spazzo via le cose Guarda Guarda che roba Arriva anche abbastanza lontano Come portato Vediamo il bus E' proprio Guarda che rimbalza Sto rimbalzando lì in mezzo Oddio Oddio No, la moto, Rinegan Guarda la moto Oddio Povero motociclista Motociclista Ragazzi, guardate questo fucile a precisione Precisione E' un calibro 50 che spara la raffica Sì, è un calibro 50 che spara la raffica Non so se rendo un'idea Guardate, oddio Madonna, ho fatto esplodere una macchina Adesso arriva anche la polizia Spara tre colpi a raffica Super raffica Guarda che roba E' esplosa la macchina in una raffica Guardate che roba Oddio Oddio ragazzi Invece con le palle di neve Esplodono Vedi guarda che roba Le esposti anche Non poi così C'è una bella scritta TFG Così Tata 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 Scusate 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 Eccola qua ragazzi La scritta TFG con le palle di neve Nel frattempo Ma 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 allora Tutte queste persone Ti sparo con le palle di neve Scatole Guarda che roba, ecco, 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 in testa con la palla di neve, vediamo un po', ma tipo, se gli spara un cadavere, non si sto, guarda, 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 salta, salta, si parà, andiamo a vedere se fucile la poppa a canna di mostri che spara a raffica, bombe, si spara a raffica, guarda che roba, guarda, 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 già fanno saltare di là, adesso fanno saltare un po' di qua, adesso fanno saltare, più esplosioni di così, ragazzi, in un video, non potete vederle, guarda che roba, Le esplosioni rendano tutto più etiche, molto tutto più etiche, guarda, 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 che roba, guarda, non è che ne spinge, butta via tutto quanto, le lancia letteralmente, guarda, guarda, la polizia dice, siamo vicini al soggetto, siamo lontani dal soggetto, siamo esplosi, ma come una raffica riavida, che spara più a raffica del fucile a raffica, guarda, guarda che roba, e lancia le cose, giustamente, perché non bastava, no? Non bastava, allora bisogna neanche lanciare la... Guarda, 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 guarda Cioè, sta riempendo... È arrivata lontanissima Aspetta, aspetta, dov'è la mosca? Ecco la mosca Oh, ho visto un aero, ho visto un aero, c'è, 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 c'è Dov'è, dov'è, dov'è? Là, no, no, non l'ho vista più Prendiamo il moschetto, ragazzi Il moschetto che spara rafica e lancia le cose, cioè Aspetta, gli uomini no, ma le macchine, no, neanche le macchine La macchina quella esplosa Sì, però, tipo... Sì, le macchine Non vedo, non vedo, non vedo Hai visto di aver finito la macchina? Sì, spara il doso Ciao E questo? Guarda che roba È talmente veloce Guarda i proiettili che escono fuori Sì Ah, vuoi dare lancia a granate? Lancia a granate, penso di una lancia a granate normale No, sì Invece no, perché spara rafica Ah, ho tre esplosioni Mi bruciano gli occhi Dio, ma è tutto sfocato, non vedo nulla Lancia razzi, poi a rafica Che spara, razzi laser? Poi non capisco Cose verdi, cose verdi Guarda, esplodi, esplodi Oddio! Perché ogni tanto fa così, vabbè Boom Aspetta, aspetta Devo colpire, devo colpire, devo colpire Devo colpire, 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 colpire 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 Scusi Tutto E le fuochi d'artificio Che fa anche male Questa volta non fa solo Beh, i pochetti atrici non è che fanno bene Sì, nel senso, nel gioco è normale Non fanno un cazzo Perché guarda, se c'è il soggetto Mi spari per terra e loro muoiono E prendono fuoco E prendono fuoco brutalmente È un cannone È una cosa spara laser Che esplode Spara laser A rafica E poi abbiamo La granata gravitazionale Guardate ragazzi Facciamo una granata gravitazionale Dove è un qualche duro Eccolo là Allora Vieni qua che siamo un po' in fiamme Ti tiro una granata Guardate cosa succede Per un attimo non succede niente Poi Tutte le granate Naturalmente Poi ragazzi Gravitazionale Guarda che roba Opla Opla Ma dove sta tirando la granata? Perché la tira là? Perché c'è quella di prima Oddio Oddio Guardate la granata Questa è la granata a gas Tira la tassa Questa è la granata a gas Lo sentite? Ma che cazzo Gli tiro coltelli Gli sto tirando coltelli A gas Ma che cazzata è Oh Vabbè Guarda che figo Guarda come si pianta sulla Eh pianta Sì Col manico si pianta Non so se hai visto Che c'è una persona Che ha preso il volo Sì Io lo so Le persone prendono il volo qui Guardate l'estintore ragazzi L'estintore È l'ideale In caso di incendio Esatto L'estintore che in caso di incendio È l'ideale Qua dà fuoco Oddio Oddio Ecco Vedete ragazzi L'estintore che dà fuoco E in più Ti fa fare errori grafici Lancia le cose Lancia le cose E ti fa fare anche Un po' di errori grafici Giustamente Giustamente Poi mi danno col mancanello E io ti tiro la pala di neve Opla È una pala di neve molto forte ragazzi Come vedete Uccide le persone È un sasso Ricoperto di neve Esatto In realtà è un sasso E muori Cazzo No Tutututututututu Ah Facciamo vedere Una figazzine Vediamo se funge subito Guarda Bellissimo Come nel gioco là Come si chiama Come sniper lead Guardate Guardate No Cazzo L'ho mancato Vediamo Quello 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 Con l'immoto No Sì Non serve funzionare Sì Eccolo qui Vediamo 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 È già caduto Vedi Ok Ma che tanto fa questo errore ragazzi Va bene Aspetta Aspetta Un altro Un altro Un altro Tu Questo qui vuole Vuole farti brutto No Olè Bellissimo Almeno l'hanno messo Gli effetti sniper lead Eee Eee Un altro Tu Sì Appena C'è No Che culo La macchina L'ho salvata E' vista Che roba Merda Eccola Guarda 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 E' morta Prima che ne faccia il proiettile Incredibile Quindi se le mod vi è piaciuta Se la mod vi è piaciuta Se la mod vi è piaciuta Tanti vi piace Ciao a tutti E al prossimo Video